Amici del software libero open source benvenuti o bentornati in questa 194esima puntata del podcast di marcos box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source delle settimane appena trascorse perché dico settimane appena trascorse perché il podcast di marcos box è un po' come Debian viene rilasciata quando è pronta o magari come Gandalf con gli stregoni che arrivano quando è il momento di arrivare non un minuto prima non un minuto dopo Credo che con queste due battute con queste due citazioni abbia perso il 90 per cento degli utenti che mi stanno seguendo ma fermi tutti non scappate perché oltre a fare battute in merda faccio anche video interessante ogni tanto e video interessante che trovate sulla pagina youtube di marcos box dove oltre a avere le puntate video del podcast di marcos box trovate una serie di recensioni guide sia di software linux che distribuzioni linux ma anche qualche volta software commerciale e soprattutto trovate anche video recensioni di prodotti hardware che pochi però buone perché vedo che dai numeri che apprezzate la mia schiettezza quando si parla di di hardware e ovviamente se ancora non l'avete fatto andate correte immediatamente iscrivervi al canale youtube di marcos box mettete tanti mi piace attivate le campanelle tutte le cose che vi dicono gli youtuber per aumentare la visibilità del canale marcos box quello del pacco marco gianini mi trovate con queste query su youtube vabbè vi lascio anche il link in descrizione in questa puntata del su spotify del podcast ma apriamo la puntata apriamo la puntata e parliamo della prima notizia riguardante il rilascio di inkscape 1.4 focus di questa nuova versione riguarda l'accessibilità e la personalizzazione però a mio avviso che novità principali di novità più importanti di questa nuova versione di inkscape riguardano due cose principalmente riguardano la possibilità di importare le palette da adobe color book e la possibilità di aprire i file di affinity designer perché secondo me sono molto importanti perché mi fanno capire sempre più che il team di inkscape è un team fatto da sviluppatori intelligenti 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 perché perché introducono all'interno del software sempre miglioramenti per quanto riguarda l'intercomparabilità con il mondo esterno e inkscape è uno di quei programmi che lavora bene con il mondo esterno perché riesce ad aprire i formati proprietari e quindi ci consente se noi utilizziamo inkscape di lavorare anche con altre persone che utilizzano altri software come appunto in questo caso adobe la suite di adobe e gli utenti che utilizzano affiniti affiniti designer nella fattispecie affiniti designer perché secondo me l'hanno fatto questi tizi hanno deciso di aggiungere compatibilità con affiniti designer perché vi faccio vedere perché affiniti è una software house inglese che recentemente sta spopolando su un mondo di windows anche complice una certa dose di pubblicità che viene fatta dai diversi canali youtube perché rilascia tre software designer foto e publisher che sono rispettivamente un software di fotoritocco un anzi no scusate designer è un software di progettazione grafica foto che è un software di fotoritocco e publisher che è un software di impaginazione software che sono compatibili con mac windows ipad e anche con wine su winox e le vecchie versioni la due la versione precedente invece mi sembra che era perfettamente compatibili sono dei software commerciali che funzionano molto bene io personalmente li sto testando per per questioni lavorative e funziona il video funziona molto bene sto vedendo che sempre più utenti stanno abbandonando i prodotti di adobe in favore di queste soluzioni di affiniti dei software di affiniti che funzionano funzionano bene e sono più leggeri e il team di inkscape ha deciso di supportare affiniti designer e con il team di inkscape per aver intuito questa cosa ricordate che questa tiradina all'orecchio che faccio anche a quelli di libro office a me interessa se io ci devo lavorare mi interessa l'intero operabilità mi interessa poter aprire i file fatti da conformati proprietari senza avere rotture di scatole capito capito libero office migliora sotto questo punto di vista e cambiamo argomento cambiamo argomento e passiamo a parlare di ubuntu perché ci sono due notizie riguardanti ubuntu la prima riguarda il rilascio di una nuova concept iso di ubuntu basato su ubuntu 24.10 per le come si chiamano i shock realizzati da snapdragon per desktop per portatili ovvero la piattaforma snapdragon xlite o elite come volete pronunciare questa è nuova concept iso di ubuntu è basato su ubuntu 24.10 e quindi offre tutti quanti i vantaggi di ubuntu oracula oriola ed è interessante per tutti quelli sviluppatori che hanno questa possibilità di provare questa piattaforma hardware interessante perché anche perché canonica a questo giro ha deciso di realizzare una iso unica per tutti quanti tutto quanto l'hardware snapdragon xlite quindi non soltanto per esempio sul thinkpad ma anche su altri prodotti quindi gg per canonica perché ci sta vedendo comunque anche in questo caso su questa piattaforma hardware perché diciamocelo è il futuro del nel futuro del computer dei prossimi anni abbandoneremo quasi sicuramente le piattaforme attuali per portarci tutto su arm 64 ovviamente questa versione funziona meglio però ci tengono a dire sui il nuovo thinkpad t14s evidentemente l'hanno provato principalmente su quello maggiori dettagli su questa concept iso li trovate sul link che ho pubblicato nella pagina dell'articolo su marcosbox l'altra notizia di ubuntu riguarda il nome in codice di ubuntu 25.04 che si chiamerà blanchy puffin cioè praticamente cucinera di mare coraggioso cucinera di mare intrapendente ovviamente è pressissimo per avere le novità di questa nuova versione di ubuntu di sicuro ci sarà un nuovo kernel linux e di sicuro il team di canonical passi in cera con gli strumenti base di sistema con le nuove tecnologie per testare prima di prima di arrivare alla prossima gts di ubuntu sapete che le semestrali sono un po il parco giochi di canonical per per le versioni gts nei prossimi mesi vi darò maggiori dettagli su questa nuova versione di ubuntu non appena ci saranno ci saranno non pubblicati articoli da parte di canonical che ci danno informazioni su questa prossima versione di ubuntu e passiamo adesso a parlare di cari linux o cari linux ho mai capito se si dice cari o cari linux sono troppo picco per andare a vedere la pagina wikipedia per capire gli accenti comunque ci siamo capiti che distribuzione mi sto riferendo è stata pubblicata una notizia riguardante riguardante l'abbandono dell'architettura i386 cari o cari linux hanno deciso i sviluppatori della distro di abbandonare di non rilasciare più iso a 32 bit e quindi anche cari o cari si avvicina si va a unire a carrozione delle varie distribuzioni che nel corso degli anni hanno deciso di abbandonare gradualmente le iso a 32 bit come fedora come ubuntu come archer linux per gli utenti cambia poco e nulla perché da quel che si è capito la maggior parte la maggioranza degli utenti di cari utilizza hardware recente quindi questa notizia non gli fregherà non gli fregherà più di tanto non andrà a impattare più di tanto significa semplicemente che la prossima versione la prossima iso non sarà a 32 bit non ci saranno virtualmente costituite a 32 bit insomma addio 32 bit maggiori informazioni poi le trovate nell'articolo dedicato sulle pagine di marcosbox e passiamo all'ultima parte di questa puntata del podcast di marcosbox con la notizia una notizia che ha scosso le anime dei lettori di marcosbox ma di tutti gli utenti che utilizzano questo software a livello mondiale perché era stata fatta una modifica all'SDK di Bitwarden Bitwarden lo sconoscete è un software che serve per gestione dei nostri portafogli di password note sicure e quant'altro dicevo era stata fatta una modifica all'SDK che era stata segnalata da parte di alcuni utenti sulla pagina GitHub di Bitwarden una modifica che aveva gettato preoccupazione negli utenti perché era stata fatta una pull request su client e desktop che conteneva una dichiarazione amico sulle licenze con una clausula che praticamente andava a rendere a rendere Bitwarden non più software libero ma software proprietario perché quella modifica che è stata fatta alla clausula sull'SDK andava a violare la libertà zero del software libero se non sapete che qual è la libertà zero del software libero non vi preoccupate vi ho messo in che sull'articolo dedicato sulla pagina di marcosbox dedicata a questa notizia c'era stato lo sconforto paura utenti che avevano detto com'è questi diventano software proprietari così all'improvviso senza dirci niente cattivi peste che ricolga e quant'altro fortunatamente è stato un miso un understanding o forse si sono accorti degli errori e sono rinsaliti fatto sta che qualche giorno dopo è stata fatta una nuova modifica e l'SDK di Bitwarden è stato concesso in licenza GPL V3 quindi si è risolto tutto nei migliori dei modi per maggiori informazioni su tutta questa vicenda andatevi a leggere gli articoli dedicati sulle pagine di marcosbox e infine prima di lasciarvi prima di chiudere questa puntata vi dico due notizie flash che vi potrebbero interessare la prima sono due notizie che riguardano Raspberry Pi la prima è che Raspberry Pi ha deciso di lasciare un SSD NVMe compatibile con i Raspberry Pi l'ho messo in vendita a un prezzo praticamente ridicolo e poi che è stato rilasciato uno strumento Raspberry i Art Plus come si chiama che è praticamente un acceleratore che serve per sviluppare per sviluppare tutti quei applicativi di intelligenza artificiale e quant'altro quindi strumenti interessanti per potenziare i vostri Raspberry Pi e con questa unitima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di Marcosbox io come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su Facebook su X su YouTube sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn mi trovate su Mastodon e soprattutto mi trovate su Telegram dove c'è un canale Telegram dedicato alle notizie la community Telegram dove potete commentare notizie ma anche parlare di più o meno di qualsiasi cosa vi passa per la testa perché c'è il cazzeggio libero e trovate anche una community Telegram dedicata alle offerte dove vi posto link affiliati ad Amazon e voi sapete come funziona acquistato uno dei prodotti da link affiliazione e Amazon mi restituisce una piccola percentuale ed è un modo come un altro per supportare il blog vi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NodeVPN in questo momento vi faccio vedere qual è l'ultima offerta di NodeVPN utilizzando il mio link affiliazione potete avere uno sconto Black Friday del 74% più 3 mesi extra praticamente viene affinito 2,99€ al mese l'avvonamento a NodeVPN infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando uno dei prodotti di Geekom che produce dei mini PC molto potenti sono dei NUC praticamente ci sono diverse configurazioni uno molto interessante è quello che potete vedere qui sponsorizzato sul blog il Geekom A7 e utilizzando il codice sconto GKMarco15 potete avere il 15% di sconto su questi prodotti di Geekom lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao